Ciao a tutti, ho appena concluso il mio primo incontro all'interno del mio ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è stata per me una scelta netta quella di incontrare il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone. Con lui c'è stata una forte comunione di intenti e abbiamo deciso di instaurare fin da subito una collaborazione proficua e continuativa. L'obiettivo è quello di mettere maggiore trasparenza e maggiori controlli di legalità in ambiti importantissimi e fondamentali come sono quelli degli appalti pubblici e del codice dei contratti. L'obiettivo è quello di cercare di rilanciare quegli investimenti pubblici e dare una mano anche al rilancio dell'economia senza mai dimenticare che con la trasparenza, solo con la trasparenza e solo con la legalità e controlli di legalità finalmente riusciremo a dare una spallata ancora più forte alla corruzione e la lotta alla corruzione è e rimane sempre una delle stelle porali del Movimento 5 Stelle.